yuki a tutti duellanti ben ritrovati sul canale ragazzi siamo tornati qua con un nuovo video lotto incredibile con un botto di roba diciamo che sono il ritirico fatto nell'ultimo mese mese e mezzo e diciamo mi si sono un po mucchiati poi ci sono delle cose che ho preso oggi vi farò vedere anche quello ovviamente però prima iniziare vi ricordo che se volete liberarvi di carte di yuki magic pokemon dragon ball one piece force will e digimon trovate il link del mio instagram qui sotto in descrizione contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare ovviamente finirete in questa serie di video detto questo io partirei prima con le cose che ho preso oggi poi andremo a spacchettare questa roba che diciamo nel pratico io non ricordo effettivamente cosa ho comprato qualcosina sì ma ragazzi l'ho presa talmente tanto tempo fa che sinceramente non ne ho più la più pallida idea allora partiamo abbiamo questo bel garure poi c32 che ragazzi ha visto tempi migliori ma vabbè stava tipo a 13 euro a questo punto l'ho preso poi abbiamo golem multi pezzi ne ho sfiammata tg fuciliere lama due elfi gemelli poi ragazzi c'è roba da piangere c'è roba per piangere che male al cuore ragazzi tutte ultimate molto belle il problema è che ragazzi sono devastate dalla vita voi neanche vi immagini cioè non vi potete immaginare quanto costa sto robo nm questo messo così sta 10 euro messo così vabbè poi abbiamo l'iscrizione questa questa ragazzi penso che è la carta più bella che ho preso oggi è un ex diciamo perché ha adesso voi non li vedete ma ha dei punti bianchi qua per il resto è messa molto bene quindi top sono molto contento di averla presa soprattutto in prima poi abbiamo lui che si gioca in edison poi vabbè non più sovrano scuro questo e un po' penso di merda generica sì questa era tutta la palta che alla fine fa mucchio e alla fine credo questi che si rivenda ah ok c'erano un paio di ultimate anche queste devastate dalla vita e vabbè niente fermi ragazzi un secondo vi devo chiedere una cosa importantissima prima di fine anno mi piacerebbe tantissimo i tari 5k sul canale sarebbe una cosa incredibile senza senso se volete farlo vi basta solo mettere mi piace commentare e iscrivervi a voi questa semplice cosa non cambia niente ma a me da un supporto enorme perché mi permette di far arrivare questi video a tutta la community detto questo grazie mille a chi lo farà e ragazzi dopo ci stanno delle bombe incredibili ma non vi spoilerò niente comunque vi voglio raccontare questa cosa il ragazzo che mi ha dato queste è venuto insieme ad altri due e quindi ciao buzz ciao luca ciao cri oggi il ragazzo che è venuto luca che sicuramente avete conosciuto perché è uscita la sua profile sul canale quella di purli era venuto per comprarsi un po' di carte il problema è che dopo si è autoconvinto a comprarmi due box di cyberstorm access ecco perché non avete visto altri opening sul canale due in giapponese ovviamente la cosa divertente è che nel primo ok in sbustata classica nel secondo porca troia ha beccato la starlight e ve la faccio anche vedere perché mi ha chiesto di venderla mamma mia ragazzi se poi sei più sfigati così ma porca troia cioè io sono stato fortunato perché ho comprato tre box due starlight il problema è che ho dato via il box con la starlight ed era anche molto bellina che merda vabbè alla fine sono rientrato di box quindi me la faccio andare bene detto questo adesso passiamo agli altri pacchetti allora passiamo al primo scatolone che tipo è più di due mesi che tengo dovevo aprirlo farci un reel farci mille robe alla fine boh è rimasto lì a prende polvere che poi è tutta roba che fa abbastanza schifo e quindi staremo a vedere cosa ho preso mi ricordo che c'erano delle robe blackwing il resto non lo so cioè pesa tanto per esserci solo la roba blackwing io spero non vi abbia riempito di comuni perché moro moro veramente allora ci stavano un pacco di sleeve non ricordavo che ci fossero cazzo due pacchi no non sono sleeve sono carte è probabilmente della peggior specie poi vediamo cosa c'è dentro ok queste sono quelle un pochino più interessanti quindi le vediamo alla fine diamo un'occhiata a questa roba oh mio dio ragazzi roba coreana mamma oh un acid tra pole va bene bellino poi abbiamo oh un blackhorn che alla fine non so male se ci fossero qualche ivi samurai super pesante sarebbe top beh dweller dweller americano buono vabbè questa fa il de merda questa carta da fotone per nova quindi non è neanche così vecchio il lotto ok poi vabbè roba a caso roba geargia un token collector ma altra roba coreana futuro utopico che carino questo è carino questo da mp15 top meglio di niente però nessuna carta che uh un po' di geargia nessuna carta che uh una viverna americana non è male c'è un po' di roba anche light swarm americana emblema little bug nest e una salamandra adesso vediamo un attimo in che condizioni è allora allora ma ti posso dire che mi sa meglio del previsto eh passiamo al prossimo allora anche qua è un geargia americano vabbè finchè c'è la roba americana ci posso stare altra mamma mia roba coreana ma che cazzo ci faccio tutte common poi almeno mi avesse dato la roba foie il bella qualche ultimate così tattica tiriamo fuori la roba e vediamo 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 ninja verde che non è male e per il resto ma carino questo da battle pack però ragazzi se devo fare le pulce alla roba da battle pack capite che non c'è niente qua dentro un po' di roba di yugi e un po' di roba di magic che non andremo a vedere cioè io magic lo sto comprando lo sto mettendo da parte perché ancora non so entrato del tutto in magic in pokemon si e quindi ho iniziato a collezionare anche pokemon quindi ragazzi ho fatto già un disastro il magic ancora ho trovato quello che mi piace però non ho dei soldi per poterlo comprare quindi questa cosa mi allontana ancora dal gioco sono molto contento e niente niente totalmente niente vediamo qua tra la roba da blcr se c'è qualcosa di carino un value questo carino uh i fascini top questi tipo stanno a 2 euro l'uno se non ricordo male quindi benissimo mentre di qua abbiamo beh questo carino uh bilze bilze secret top poi roba blackwing no non è male dai bilze non me l'aspettavo è un'ottima è un'ottima sorpresa allora andando avanti abbiamo altra roba blackwing poi non so se tutto il resto è magic vediamo si questi qui stanno a qualcosa tipo 3 o 6 euro l'uno non ricordo se sono se sono scesi o se costano ancora uguale poi per il resto altra roba di magic qualcosina di yugi in coreano nessun samurai super pesante infatti non ce n'è neanche l'ombra è top bello oh no ne è rimasto uno ma mi sa che c'è anche un deck box con della roba sul box va bene poi vabbè niente niente come l'ho detto tutta immondizia un deck box questo è vuoto è a posto possiamo andare avanti con spero qualcosa di più interessante allora io andrei prima con l'altro scatolone che riesco ad aprirmi senza tagliarmi le vene ragazzi involontariamente questo video è sponsorizzato da Cartree Zero vi ricordo che se vi registrate col mio link in descrizione potete ottenere 2 euro per i vostri acquisti in più sopportate il canale si tratta di un servizio che vi permette di comprare carte da diversi venditori e pagare un'unica spedizione quindi non è assolutamente mai detto questo io andrei con la scatola grossa prima oh mio dio diciamo questo è un po' una mystery box perché non sapevo effettivamente cosa ci fosse però c'è una fuga dolorosa che è ottima mettiamola da parte poi per il resto spero ci sia qualcosa ma dubito sì confermo vabbè poi 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 qualche samurai super pesante raro sarebbe top eh poi qualcosa c'è però non è quelli che mi servono qui ho un mix di tanti set quindi ci potrebbe essere la gioia in mezzo eh dai 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 perché sono 3 quelli che costano però però non ce n'è non ce ne stanno allora vediamo se facciamo a trovare uno dei 3 uno dei 3 attualmente uuuuh guarda Tama ragazzi anche questa è salita un sacco come carta perché sono usciti supporti spirit quindi top ottima poi vediamo vabbè queste sono carte di magic vabbè qua c'è la roba marchiata roba a caso uuuuh un po' di roba traptrix una dionea che ha visto tempi migliori me ne servirebbe una per il mazzo però vabbè farò senso ne vorrei una nm da structure mi andrebbe anche bene no non c'è ma potevo ridere un sacco se c'era l'x no il sincro samurai super pesante che oggi siamo stati mezza giornata a cercarlo e non l'abbiamo trovato dai dai qua dammi un samurai super pesante che costa il problema è che non c'è niente non c'è niente Stora Tama non si sa neanche come ha fatto entrare qua dentro allora niente altre carte a caso di magic e andiamo con le ultime allora poi abbiamo l'altro box che ovviamente suppongo sia più interessante perché non mi sembrava di aver comprato solo sta roba allora uh barrier top carta ottima vabbè terraforming diciamo un po' di staple generiche c'è qualche staple generica adesso non voglio allargarmi c'è non è male ok stallo non ci facciamo niente vediamo qua vabbè una cosa abbiamo capito che boh red ice fusion proprio per trovare qualcosa di buono diciamo che poteva andare meglio come poteva andare peggio poteva non essere Charatama qua dentro abbiamo un po' di pack sealed vediamo se state risigilate se sono proprio sealed no sono proprio sealed vediamo un po' tanto cicciotto però sembrano tutti sealed vabbè comunque ho comprato un po' di pack sealed che ci andremo ad aprire sul canale prossimamente top sperando di sbussare qualcosa poi abbiamo un po' di sleeve a caso queste e quello che effettivamente era di valore ovvero numero 52 che non lo avevo tra le staple quindi questo finirà lì un costellazione diamante che lo avevo in crucco quindi questo si giocherà poi cose a caso e un curibo che fa l'occhiolino perché sì poi abbiamo un numero c88 vediamo anche in che condizioni ha visto la guerra probabilmente poi abbiamo un numero 46 che ce posso pure sta è messo male eh ragazzi però vabbè costa comunque tanto un numero 53 anche questo ragazzi ha visto sicuramente tempi migliori un lui lui mi piaceva un pendolo di merda ultimate e c'è stato poi vabbè abbiamo cari 20 secchi gamessia che comunque costa un boato 2-3 euro e mogonolito clifford bene ragazzi adesso passiamo alle cose serie perché queste queste ragazzi non erano cose serie questo era un antipasto per le cose serie cioè i veri ma si dice acquistatori di lotti vi mostrano adesso le robe interessanti le robe belle abbiamo una carta gradata peccato da grad ma vabbè dettagli e un mucchietto di carte qua io partirei subito col mucchietto e vediamo cosa abbiamo allora abbiamo oh guardate un po' che bello sarcosauro detco in due perra questi ragazzi sono fantastici tanta roba poi abbiamo baby cerasaurus americano in tre perra poi abbiamo un dogoran americano un drago exis ribellione occhi diversi tanta roba poi questa carta ghost a caso presa così perché manda anche qui perché c'è un mercato acquisto così fate un po' merda poi 107 che vediamo come è messo è messo anche discretamente bene poi drago sincro ala cristallo e catena valva per concludere la nostra carta gradata da grad non è un plus ovviamente intanto non hanno più messo la sleeve dentro la carta quindi è già un plus per grad andiamo a vedere abbiamo prima vediamo la valutazione eh no c'è scritto sul nome allora la valutazione un 7 e mezzo carta de merda voilà ragazzi drago armato oscuro gradato 7 e mezzo da grad che ci facciamo la spaccamo la teniamo così per adesso la metto vicino alla psa e vediamo la sua porca figura ho messo così me le ricordavo comunque più spesso ragazzi ma lavoreste un'intervista con quelli che lavorano da grad una puntata del podcast ovviamente in maniera seria non da prendere per il culo grad voglio capire le dinamiche cosa vogliono raggiungere fatemelo sapere qua sotto con un commento nel caso che nel caso ci si organizzi e adesso ragazzi andiamo con la portata principale il lotto più costoso di questo giro che mi è costato tipo 7 piotte però ragazzi lo faccio solo per voi eh questo mi serve per non pensare alla ludopatia e quindi lo faccio solo per voi mi salva tutte le volte detto questo allora prendiamo le forbici e andiamo ad aprire la scatolina poi passiamo a queste che secondo me sono le carte più grosse che ho acquistato a sto giro oh guardate un po' grazie frate ma grazie grazie veramente non avevo bisogno allora qui ragazzi dovremo controllare le condizioni non dico di tutto ma quasi tutto andiamo con la prima prima tranquilla un buco nero ok poi abbiamo thunder dragon dark vabbè poi un davvero rospotente e comunque i suoi 20 euro li fa poi abbiamo durendal onesto tranquilla scheggia da avidità anotillus altra scheggia da avidità un drago rosa nera che io guarderei un attimo le condizioni a me sembra bella pulita no cavolo è blu in basso e c'ha l'angolino costo in alto aperto vabbè gg niente poi abbiamo cavaliere dell'incubo grifone che comunque è una bella carta poi abbiamo il drago assassino esplosivo un asura che questo può aiutare un attimo le condizioni e da lodi in prima oh ti dirò è nm sto cazzo di preta asura proprio una bella carta ha un leggero sfreggetto qua dietro ma chi cazzo me ne frega questo me lo gioco io poi abbiamo carica della brigata la luce sfortunatamente non nm però potrei giocare light swarm alla massima forse mi mancano le ricariche poi abbiamo orus e anche questo non è nm c'è un cosino lì sull'angolo però comunque è sempre una bella carta meciaba adesso vorrei trovare anche cioè alle easter perché non ce li ho più e vorrei averceli per me poi nucleo cristallino un altro preta asura molto bello drago bianco occhi blu forza riflessa da pretoni metallici vabbè poi un absolute zero che anche questo sta tipo 7-8 euro una lancia l'araldino a perfezione calice un altro araldo che sembra anche questo messo molto bene eh vabbè nm no però è un buon ex poi arcidiano e drago rosso top ulti ve lo dico già che c'è uno sbrego qua su in alto porca troia che mi ha tiltato quando l'ho visto poi abbiamo aspetta volevo tirar fuori una cosa eh abbiamo un cazzo di bel playset porca troia di cristia ora si che possiamo giocare agenta tutti in seconda peccato però sono veramente belli eh eh si come avevo visto sono tra l'ex e il good però però sono veramente belli vediamo il secondo un po' di puntini bianchi qua e questo forse è più bello di come pensassi sicuramente non è nm bello pulito poi dovrebbe essere american questo e per concludere l'ultimo che anche questo dovrebbe essere american proviamo che c'ha dei puntini bianchi qua e basta vabbè diciamo che è sull'nm meno ex poi abbiamo corvo il primo fa vedere le condizioni bene dai è buono il problema è gli angoletti che sono un po' sminchiati poi ce ne dovrebbe essere un altro eccolo vediamo in che condizioni è c'ha delle le cosine qua c'ha sempre gli angoli vabbè dai comunque un corvo in prima poi abbiamo elma che ragazzo comunque si era sbagliato pensavo a 650 euro ma in realtà è perché konami ha fatto cioè konami scusate car market ha fatto una merda e tipo l'ha splittata quindi da una parte costa 3 euro dall'altra costa 150 poi abbiamo un play set di imperma così tanto per ok eccole tutte e tre belle poi dimensione magica super aralda luce viola drago bianco chi blu ragazzi fucking in prima tipo pur ma ok pagato un boato pure un po' sporco dietro poi abbiamo un red eyes metal dragon che è in condizioni a pensavo nm cavolo c'ha uno sbreghetto qua su in alto vabbè se si vede sembra che ha preso una bocca vabbè dai a parte quello c'ha un altro cosino qua giù in basso però stica è comunque da jump una super poli di queste inizio ad avercene veramente tante non so più a chi darle eccone un'altra poi abbiamo lancia proibita serpente sinistro thunder dragon vabbè colosso un altro di queste un charizard dark charizard un altro araldo muling glassia incanalatrice un 2 di meno che forse questo è nm dovrebbe essere un miracolo no assolutamente non è nm c'ha gli angoli in alto palesemente mangiati poi un mago nero del caos che ci voglio credere che sia nm ma è impossibile infatti non lo è è ex però è un bel ex poi abbiamo fusione dimensionale un fascino un araldo calice e proibizione adesso ragazzi ci sono due carte due carte qua che costano più di tutto quello che vi ho mostrato fino adesso beh forse il drago bianco è quella è al terzo posto andiamo con la prima ragazzi ragazzi non so se ci rendiamo conto di cosa vi sto mostrando anche a me manca il fiato spero sia veramente nm perché porca troia potrei morire ok questa è veramente nm rimettiamola assolutamente subito dentro perché a me si sta fermando il cuore ragazzi e l'altra forse è anche più grossa di questa vi dico niente bam cp02 mago della fede allora il front è perfetto il back pure mamma mia ragazzi vi giuro vi giuro che da quando mi è arrivato il pacco stavo sudando freddo bene mamma mia bene ragazzi con queste due il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento qual è la vostra carta preferita di tutto l'otto e secondo voi se queste mi conviene tenerle per me e fare il figlio di puttana oppure ovviamente venderle e recuperare i soldi però ammetto ammetto che hanno il loro bel fascino perché sono belle pulite non hanno un punto bianco quindi top detto questo ragazzi statemi easy e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti